La chiamano sindrome post-covid è quella dell'insieme di sintomi che continuano a tormentare i reduci dal coronavirus per settimane se non per mesi dopo la guarigione. Uno studio firmato dagli esperti del Policlinico Gemelli IRCS di Roma e pubblicato sulla rivista internazionale JAMA. Su 143 pazienti seguiti fino alla fine di maggio, a distanza di oltre due mesi dalla diagnosi di covid-19, solo 1 su 10 non presentava sintomi correlabili alla malattia iniziale. La maggior parte riferiva infatti la persistenza di almeno un sintomo, soprattutto stanchezza intensa e affanno, mentre il 27,3% lamentava dolore alle articolazioni e 1 su 5 dolore toracico.